Tra i rimpalli di responsabilità e di proprietà nel mentre si sta consumando anche una lotta a suon di carte bollate, c'è una struttura edificio storico il cui futuro è tutto da scrivere e ad oggi non si sa chi ha il potere di scriverlo. Sul quotidiano Il Mattino è apparso un articolo che ha messo in risalto le difficoltà in primis dell'amministrazione comunale salese di poter accedere all'edificio che insiste sul proprio territorio comunale. Non si tratta solo di accedere ad un edificio ex carcere che al momento risulta chiuso, c'è molto di più. Oltre all'aver perso il servizio dell'istituto penitenziario che serviva peraltro in maniera egregia al territorio anche con attività di rieducazione e di reinserimento alla vita sociale messa in campo dall'amministrazione comunale salese, c'è anche da capire che fine farà l'edificio che prima di essere istituto penitenziario ospitava il Vescovado nell'epoca in cui Sala Consilina rientrava nella diocesi di Capaccio. Diocesi che, mantenendo la titolarità, aveva stabilito che anche Sala Consilina come teggiano potesse essere individuata come sede Vescovile. Nei primi anni del 1800 fu realizzata la struttura, visto anche il notevole sviluppo dell'area proprio intorno alla sede, con la nascita e lo sviluppo del rione di San Raffaele e l'abitato intorno a Piazzetta Gracchi. A questo punto è naturale chiedersi cosa ne sarà di quell'edificio che per la sua età ultracentenaria rappresenta anche un bene patrimonio culturale. Un edificio su cui il comune di Sala Consilina, come evidenziato più volte dal sindaco Cavallone, non riesce ad entrare non essendo in possesso delle chiavi e della titolarità. Un edificio che al momento si sta ancora cercando di capire chi ne è il responsabile e a chi spetta la cura e la tutela, mentre bisogna fare i conti con una situazione di degrado e abbandono a cui però l'amministrazione comunale salese è impossibilitata di intervenire anche per evitare il rischio decadimento dell'immobile. Dall'articolo pubblicato sul mattino è evidente come diversi enti ed istituzioni manifestano perplessità alla richiesta di chi sia l'ente responsabile della struttura, e pertanto a chi spetti la cura e la tutela del bene.